... Scusate! Scusate! Non so se sei presente! Scusate! 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 Buonasera! 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 12, 6! Scusate! Non so se sei presente! Voi, ma sono stato lungo! Viene andato solo 12! Scusate! Valentina! D'Agostino! E vai su per fare! Non so se c'è la vale, però c'è! L'entusiasmo di una grande finale! Io vi chiedo questo! L'applauso vostro agli anni! Grazie! Bellissimo! Bellissimo in ogni caso! Scusate! Scusate! È vero! Voi! E che domani sia una grande finale! Vi aspettiamo! Domani sera sempre voi in Piazza Mario con loro! I protagonisti assoluti insieme a voi! Che dovete assolutamente essere presenti! Io vi ringrazio! Vi aspettiamo per la finale! Ciao Andrea! E' stato un piacere un onore! Ciao Piappino! Buona volta a tutti Piappino! Vi ringrazio! Ciao Piappino! Arrivo e ti abbraccio come sei quasi amato Mamma, mamma Mermelo, mi dispiace solo, lo sai Vai, vai, tranquillo Vieni da mani Vieni da mani Ciao, mi piace di te Mi piace al secondo fa Oh, ti è piaciuto il pacetto alla... Sì, 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 queste sono immagini che non ce l'ha nessuno, guarda Ah, è vero Queste sono in esclusiva, non ce l'hanno Perché quando si perdono questi attimi qua, significa che non si capisce nulla Di televisione Era di là lo zio Dove è l'unico che mi ha detto che non mi devo andare? Era di là lo zio Ah, pensavo fosse una foto No, io ho niente foto Dove è in realtà lo zio? Bah, ho, io mi smalzerio Yes, ce l'abbiamo fatta Ah, pure il bacio tra figli e mamma, va bene Io che metto tutto sui tu Ok, cosa dovremmo vedere? Ok, questi suoi vettorali Vi vanno fatte vedere ancora di più grazie